assalamu alaikum a tutti buongiorno a tutti ciao a tutti allora oggi parleremo del coronavirus questa trasmissione si chiama non solo islam quindi si riserva di trattare di argomenti anche che non coinvolgono direttamente l'islam o comunque soltanto l'islam in mondo islamico il coronavirus è una pandemia che ormai ha colpito tutto il mondo quindi i paesi musulmani dal punto di vista delle misure da prendere i paesi musulmani si stanno diciamo così grosso modo adeguando alle misure prese dall'italia e dagli altri paesi occidentali più o meno la situazione tranne qualche eccezione come svezia ma che adesso anche la svezia si sta dopo aver sottovalutato il problema si sta adeguando con delle misure severe ma a parte questo vorremmo cercare di capire diciamo qualcosa di più su questo su questo soprattutto su quello che che ha creato questa questa crisi economica oltre che naturalmente le vittime in tutto il mondo allora tanto per cominciare questa pandemia presenta ancora molti aspetti non chiari il virus non è ancora del tutto conosciuto fino in fondo non sono conosciuti fino in fondo gli effetti la durata degli effetti se è in grado di generare un'immunità e per quanto tempo insomma molte cose e quindi di conseguenza anche l'eventuale vaccino sono ancora allo studio ma quello che non è ancora chiaro è anche se si sia trattato di un se si tratti di un virus naturale o comunque si o invece si tratti di un'arma batteriologica cioè un virus ingegnerizzato in laboratorio e poi rilasciato diciamo volontariamente come arma batteriologica oppure se sia sfuggito per accidente da un laboratorio personalmente scarterei l'idea del dell'accidente in quanto questi laboratori dove si si studia si studiano i virus e si fanno eventualmente esperimenti sono o hanno delle misure di sicurezza molto molto rigide e severe per cui io personalmente escluderei che un vaccino possa uscire diciamo così per caso per accidente per cui i casi secondo me si riducono a due secondo 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 logica quindi o un vaccino o un virus diciamo così naturale o un virus ingegnerizzato per risalire agli eventuali diciamo così mandanti ipotizzando l'arma batteriologica bisogna secondo me partire dalla situazione che ha creato questo vaccino questo virus cioè una situazione sostanzialmente di blocco dell'economia i paesi che si chiudono si fermano i voli aerei si fermano i commerci internazionali è una situazione sostanzialmente di blocco di stand by di tutto l'economia globale che si ferma e in effetti quindi la prima cosa da osservare è che questo questo virus è un virus diciamo così anti globalizzazione cioè perché l'effetto che ha portato è stato questo alla fine praticamente della globalizzazione e quindi di conseguenza un virus potremmo dire sovranista quindi la prima tra virgolette coincidenza che questo virus si trova a coincidere con gli obiettivi diciamo così anti globalisti e sovranisti di una certa massoneria questo porterebbe logicamente ad escudere altri altri mandanti per lo meno come mandanti principali ad esempio si è ipotizzato che personaggi legati a industria farmaceutica abbiano interesse da questo da questo vaccino da questo virus in quanto poi la la l'implementazione del vaccino sarebbe estesa a gran parte della popolazione mondiale questo secondo me potrebbe essere un motivo secondario o diciamo così un effetto collaterale cioè nel senso che alcune persone gruppi multinazionali o società potrebbero avvantaggiarsi e trarre grandi guadagni dall'eventuale vaccino ma secondo me la cosa del tutto sproporzionata alla situazione economica creata perché un blocco dell'economia di questo genere non va sicuramente neanche a vantaggio di queste di questa ipotesi senza contare che poi questa vaccinazione non potrebbe necessariamente essere estesa a livello mondiale nel senso che poi paesi come la Cina, la Russia, l'India produrrebbero il vaccino per conto proprio e quindi questa motivazione secondo me non è sufficiente come non regge a mio parere l'ipotesi che tutto questo poi abbia il fine di implementare la tecnologia 5G in tutto il mondo e con essa un controllo della popolazione a livello mondiale per instaurare una dittatura mondiale anche questo io credo che possa essere un effetto collaterale cioè una situazione in cui alcune forze alcuni interessi si possono muovere approfittando della situazione creata dal coronavirus ma lo stesso fatto che esistano forze a livello della massoneria che si contrappongono e che quindi non esista un solo progetto di ordine mondiale, di nuovo ordine mondiale, di governo mondiale ma esistano diversi che si fanno la guerra questo escludi appunto che ci sia un interesse unico in questo senso a instaurare una cosa del genere diciamo così in tutto il pianeta senza contare poi che una tecnologia come quella del 5G ha bisogno di un'economia, di un'economia che funziona per essere implementata per poi finire con la considerazione che le tecniche di diciamo così di controllo della popolazione ormai sono raffinate già da tempo non avevano bisogno sicuramente di questa tecnologia per instaurarsi basti pensare soltanto all'uso delle telecamere che ormai sono dappertutto e da escludere anche l'ipotesi di una nazione cioè di una diciamo un'entità diciamo così statale che abbia in qualche maniera deciso di attaccare diciamo così un nemico un altro stato o altri stati in quanto appunto tutti gli stati in tutto il mondo sono stati colpiti da questo virus in maniera profonda tra l'altro la pandemia non si è ancora allargata del tutto in Africa ad esempio per cui è una cosa che probabilmente avrà ancora degli sviluppi per molto tempo quindi ritorniamo al punto diciamo così iniziale cioè che questo virus è un virus sovranista possiamo chiamarlo del resto la curiosa coincidenza ce la ricorda anche il nome coronavirus quindi la corona è quella la corona del re è un attributo del re della monarchia quindi della sovranità quindi anche questo è un diciamo così un elemento esoterico simbolico che rimanda al sovranismo naturalmente può avere la sua importanza che il virus abbia colpito inizialmente la Cina e poi l'Iran quindi adesso bisogna vedere se c'è stata qualche progettazione da parte di elementi della massoneria o di poteri comunque oscuri occulti se c'è stata una progettazione che delineasse una situazione di questo genere allora il massone Gioele Magaldi nel suo libro uscito nel novembre 2014 massoni società responsabilità illimitata la scoperta dell'urloggio ci ha fatto conoscere la struttura delle più grosse organizzazioni massoniche mondiali ci ha spiegato che da almeno due secoli circa le massone le obbedienze massoniche legate al territorio cioè una nazione o una città hanno non hanno diciamo così non hanno più il potere che avevano prima e questo potere diciamo è stato assunto dalle urlogge che sono logge sono superlogge transnazionali quindi non più legate al territorio sono formate da persone provenienti anche da nazionalità diverse sono divise grosso modo in due o perlomeno erano fino a un certo punto divise grosso modo in due correnti principali una diciamo così di destra detta neo aristocratica secondo quale il mondo deve essere governato da un'elite che esercita il suo potere assoluto sul popolo sul popolo diciamo così più o meno schiavo e il secondo ramo diciamo così potremmo chiamarlo di sinistra persegue un ideale più democratico con una maggiore partecipazione del popolo e di solidarità tra i popoli secondo questo schema le rivoluzioni che hanno portato alla caduta delle monarchie europee ad esempio l'evoluzione francese l'evoluzione americana eccetera sono opera della massoneria diciamo così progressista mentre i fascismi i nazionalismi in voga un po' in tutto il mondo all'inizio del novecento sarebbero opera della della corrente neo aristocratica naturalmente è una schematizzazione perché poi esistono anche delle sfumature e delle e delle varianti a questo schema principale ma lo schema principale è questo dopo la seconda guerra mondiale che praticamente è stata vinta dalla massoneria progressista vi fu un periodo di ricostruzione di rinascita delle logge neo aristocratiche questo portò a un periodo di scontri a livello mondiale dove i due progetti si scontravano in molti paesi si furono ad esempio molti avvenimenti traumatici tipo gli assassini di Kennedy Martin Luther King gli attentati a Reagan a Papa Poitila il golpe in Cile ad opera del dittatore Pinochet e tanti altri fatti simili nel 1981 però ci fu la cosiddetta Pax Massonica cioè gli elementi di tutte le urlogges che sono in totale 36 aderirono a un progetto denominato Massoni unite per la globalizzazione United Freemasons for Globalization che fu sottoscritto da tutte le urlogge sia di destra che di sinistra e che consisteva nel raggiungimento dei 12 obiettivi apertura della Cina al mercato e riavvicinamento tra Cina e Giappone liquidazione dell'Unione Sovietica accelerazione dell'Unione Europea ma soltanto a livello economico unificazione della Germania accordo sulle presidenziali americane che andavano sarebbero dovute andare in modo alternativo ai democratici e ai repubblicani previo accordo precedente in Gran Bretagna distruzione della sinistra preparazione di una finta alternanza al potere sulla falsariga del modello adottato per gli Stati Uniti in Francia si decide di favorire il socialista a Mitterrand per compensare diciamo così il favore dato ai repubblicani negli Stati Uniti poi era previsto il graduale smantellamento delle dittature sudamericane argentine e cil eccetera con il ristabilimento di regimi democratici a cominciare dall'Argentina a Brasile smantellamento dell'apartheid in Sudafrica e scarcerazione di Nelson Mandela soluzione del conflitto israelo-palestinese compromessi e aggiustamenti politici un po' in tutto il mondo e smantellamento di gruppi terroristici quindi ecco questo punto importante perché ricorda che tutti i gruppi terroristici erano e sono sempre controllati da branche della massoneria da urlogge in particolare e per quanto riguarda l'Italia smantellamento della P2 rafforzamento del pentapartito e affidamento dopo averlo affiliato ad alcune urlogge della presidenza del consiglio a Bettino Graxi queste condizioni si sono verificate poi nel tempo tutte ad eccezione guarda caso della soluzione del conflitto israelo-palestinese che avrebbe dovuto consentire anche ai palestinesi di avere uno stato questo è l'unico punto che non si è avverato questo patto fu rotto nel 1996 dove Bush padre fondò una urlogge denominata Ator Pentalfa che poi ruppe clamorosamente appunto il patto nell'11 settembre 2001 con l'attentata alle torre gemelle che è attuazione completa di questa urlogge denominata Ator Pentalfa la loggia è come tutte le questa urlogge è come tutte le altre è transnazionale io vi faccio alcuni nomi di affiliate questa loggia Osama Bin Laden il leader di Al Qaeda dell'organizzazione terroristica Al Qaeda Abu Bakr al-Baghdadi il califo il cosiddetto califo dell'Isis poi tutta la famiglia Bush Samuel Huntington lo scrittore del libro Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale poi tutta la lista dei cosiddetti neocons americani Donald Ramsfield Condoleezza Rice Dick Cheney eccetera eccetera tutti gli esponenti della della i più grossi esponenti della monarchia saudita dell'Oman del Bahrain alcuni iraniani come Rafsanjani alcuni israeliani come Ariel Sharon alcuni europei come Sarkozy Tony Blair un paio di italiani come Marcello Pera Antonio Martino e poi il turco Erdogan che ha un ruolo molto importante e e quindi come vediamo la lista comprende elementi di tutto il mondo il programma è illustrato in nel libro di Samuel Huntington come ho già citato lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale questo progetto prevede la divisione del pianeta in nove civiltà che vanno tenute separate sono la civiltà occidentale la civiltà latinoamericana la civiltà africana islamica sinica cioè che comprende Cina e Corea la civiltà hindù la civiltà ortodossa la civiltà buddista e la civiltà giapponese queste nove civiltà sono poi diventate otto in quanto la buddista viene data come assorbita dalla sinica cioè da quella cinese è quindi un progetto che diciamo così è multiculturale visto dall'alto no perché diciamo così sopravvivono queste culture in quanto culture diverse ma viste dal basso cioè all'interno di ogni civiltà queste civiltà secondo questo progetto vanno mantenute monoculturali quindi ogni civiltà al proprio interno deve combattere il multiculturalismo ecco da qui nasce quella che a casa nostra viene chiamata in Italia viene chiamata il motto famoso ognuno a casa sua cioè ci si richiama alle presunte o vere o presunte tradizioni per rimarcare la propria differenza dalle altre civiltà questo spesso in maniera anche anacronistica in quanto è senza dubbio vero che civiltà come quella occidentale quella europea presentano indubbiamente un'impronta fortissima impronta cristiana ma è anche vero che la società è molto cambiata ed è in continuo cambiamento per cui certi certi valori non sono non sono prominenti come lo erano una volta in quanto il progresso la tecnologia indubbiamente ha portato molti cambiamenti anche a livello culturale ma in questo progetto questi cambiamenti vengono definiti come non definitivi che comunque non intaccano la sostanza della civiltà civiltà che va mantenuta vanno mantenute così come sono appunto con tutti i mezzi possibili cito alcuni brani di questo libro perché non c'è niente di meglio per spiegare gli intendimenti che ci sono dietro nell'epoca che ci apprestiamo a vivere gli scontri fra le civiltà rappresentano la più grave minaccia alla pace mondiale è un ordine internazionale basato sulle civiltà e la migliore protezione dal pericolo di una guerra mondiale cioè questo progetto perlomeno nelle dichiarazioni tenderebbe a evitare una guerra mondiale naturalmente questo per raggiungere questo ordine è sottinteso di come poi in effetti è successo di che si arrivi a procurare guerre cause disordini eccetera in questo ci si richiama e si applica in pieno al motto massonico ordo ab caos cioè ordine dal caos si favorisce il caos perché all'interno del caos è più facile poi costruire l'ordine che si è progettato questa concezione nasce anche dal fatto dalla considerazione che secondo Huntington un impero diciamo così planetario non è possibile non è concepibile dice infatti un brano un'america multiculturale non esiste perché un'america non occidentale non sarebbe americana un mondo multiculturale è inevitabile perché l'impero planetario è qualcosa di inconcepibile la preservazione degli Stati Uniti dell'Occidente richiede una rinascita dell'identità occidentale la sicurezza del mondo richiede l'accettazione del pluralismo culturale su scala mondiale in un mondo a più civiltà l'unica strada costruttiva è rinunciare all'universalismo accettare le diversità e cercare le comunanze quindi le civiltà vanno mantenute come sono separate e distinte le une dalle altre nel più generale scontro tra civiltà e barbarie le civiltà maggiori del mondo con tutte le loro grandi conquiste conseguiti nel campo della religione dell'arte della letteratura della filosofia della scienza della tecnologia della moralità della pietà umana sono anch'esse destinate a restare unite o a perire l'Europa e l'America sono destinate a restare unite o perire ecco questo è un passo molto importante perché lega indissolubilmente l'Europa e l'America all'interno della cosiddetta civiltà occidentale guidata dagli Stati Uniti d'America c'è anche un'esplicita critica della globalizzazione cioè dell'interscambio economico diciamo così globale perché si dice a pagina 320 l'interscambio economico mette gli uomini a contatto ma non li avvicina ora questo è vero in parte ma a mio avviso è una visione diciamo così un po' deformata nel senso che se si trova il modo di porre fine alle guerre e di concentrarsi sullo scambio economico che necessita naturalmente di pace ovviamente questi popoli sono destinati se non ad avvicinarsi sicuramente a conoscerli a conoscersi meglio a rispettarsi e sicuramente non li allontana poi con il tempo ovviamente si avvengono anche delle contaminazioni delle contaminazioni culturali e politiche tra le varie civiltà quando c'è una situazione di commercio e di scambio continuo tanto più nella società di oggi la società dei social network di internet e della comunicazione globalizzata in qualche maniera quindi Huntington accentua questo carattere diciamo così di differenza tra la società e dice ad esempio a pagina 458 respingere i vani e gli usori appelli a identificare gli Stati Uniti con l'Asia qualsiasi legame economico possa stabilirsi tra le due sponde del Pacifico il divario culturale di fondo che separa la società americana da quella asiatica preclude ogni possibilità di convivenza comune ecco preclude ogni possibilità di convivenza comune ecco questo è un messaggio molto chiaro viene stabilito un contrasto perenne tra Occidente e società e Asia in generale in particolare quella cinese veniamo alla definizione di Occidente l'Occidente si differenzia dalle altre civiltà non per il modo in cui si è sviluppato ma per la peculiarità dei propri valori delle proprie istituzioni queste comprendono in particolare il cristianesimo il pluralismo l'individualismo e lo stato di diritto che ha permesso all'Occidente di inventare la modernità espandersi in tutto il mondo e suscitare l'invidia di altre società essi fanno della società della civiltà occidentale qualcosa di unico e la rendono dunque importante non perché universale ma perché unica ecco qua il punto centrale la principale responsabilità dei leader occidentali dunque non è tentare di rimodellare altre civiltà a immagine e somiglianza dell'Occidente cosa che va al di là delle loro sempre più ridotte capacità bensì preservare proteggere e rinnovare le qualità peculiari della civiltà occidentale essendo il più potente tra i paesi occidentali questa responsabilità ricade in grandissima parte sugli Stati Uniti d'America e a pagina 465 viene denediato il programma cioè come i passi attraversare per attraversare per attuare questo disegno incorporare nell'Unione Europea e nella Nato gli stati occidentali dell'Europa centrale ossia i paesi del Visegrad le Repubbliche Baltiche la Slovenia e la Croazia attenzione di cui dice la Slovenia e la Croazia non la Serbia che viene data come appartenente alla civiltà ortodossa incoraggiare la occidentalizzazione dell'America Latina e per quanto possibile l'allineamento dei paesi latinoamericani all'Occidente frenare lo sviluppo della potenza militare convenzionale e non dei paesi islamici e sinici rallentare l'allontanamento del Giappone dall'Occidente e la sua politica di avvicinamento alla Cina accettare la Russia come stato guida dell'ortodossia come grande potenza regionale con interessi legittimi alla sicurezza dei propri confini meridionali mantenere la superiorità militare e tecnologica sulle altre civiltà ecco mantenere la superiorità militare e tecnologica sulle altre civiltà infine cosa più importante è riconoscere che in un mondo composto da più civiltà l'intervento occidentale negli affari delle altre civiltà è probabilmente la fonte più pericolosa di instabilità e di potenziale conflitto planetario ecco quindi non c'è più l'interesse precedente a imporre diciamo così l'occidentalismo a tutto il mondo ma al contrario si divide il mondo in civiltà diverse e contemporaneamente però si ricorda che l'occidente deve mantenere superiorità politica e militare quindi sarebbe un mondo diviso in civiltà ma a dominante occidentale o meglio dire sempre a dominante Stati Uniti d'America perché poi l'altro punto caratteristico di questo programma è che queste civiltà devono avere uno stato guida diciamo che si occupi di mantenere unita e conforme la civiltà la propria civiltà e che poi funga dà diciamo così il raccordo con le altre civiltà gli Stati Uniti vengono individuati così gli Stati Uniti per l'occidente ovviamente e per la civiltà latinoamericana in quanto la società latinoamericana viene la civiltà latinoamericana viene praticamente indicata come sottomessa agli Stati Uniti d'America comunque viene indicato un paese guida per la civiltà anche per la civiltà latinoamericana che sarebbe il Brasile poi la Cina per quanto riguarda la civiltà sinica cosiddetta sinica il Giappone per la civiltà giapponese quindi è l'unico caso di uno stato che fa civiltà a sé la Russia per la civiltà ortodossa l'India per la civiltà hindù il Sudafrica per la civiltà africana esclusi i paesi musulmani e la Turchia per la civiltà islamica vi è da dire che per la Turchia e per il Sudafrica e anche in parte per il Brasile il processo di costruzione dello stato guida è diciamo così in in fiere in costruzione in progress e quindi in questo tempo abbiamo assistito a molti avvenimenti compresi comprese guerre e atti di terrorismo tutti tendenti a creare questo tipo di situazione anche anche attraverso anche attraverso cose non molto appariscenti per lo meno da noi per esempio in Africa si è andato sviluppando un razzismo contro i bianchi un razzismo dei neri non a caso questo tipo di atteggiamento è sorto proprio in Sudafrica quello che dovrebbe essere lo stato guida della civiltà africana infatti in Sudafrica sono cominciati ad accadere dei massacri delle uccisioni dei bianchi e si è addirittura parlato c'è stata anche addirittura la proposta di cambiamento della Costituzione per inserire l'esproprio per legge l'esproprio delle terre dei bianchi senza compensazione questo è molto indicativo ed è molto indicativo che questa proposta provenga proprio dal Sudafrica e contemporaneamente sono apparsi in occidente molti leader che predicano contro il colonialismo e per il riscatto dell'Africa come ad esempio in Italia un certo Mohammed Konare per la civiltà islamica lo stato guida è sottotato dalla Turchia in maniera molto forte da Erdogan che è un affiliato alla Torpentalfa anche se all'interno di questa civiltà questo ruolo non è per niente accettato da molti altri attori a cominciare dall'Arabia Saudita che ripendica anche esso il ruolo di stato guida e quindi tutte le guerre sono movimenti che abbiamo visto in Medio Oriente in questi ultimi tempi comprese anche i tentativi delle cosiddette primavere arabe primavere islamiche anche ultimamente in Iran e in Libano rientrano all'interno di questo progetto ma sicuramente chi ha subito il colpo più forte è stata la Cina perché era la Cina che era più lanciata verso ormai lanciata a diventare lo stato numero uno dell'economia mondiale quindi il traino mondiale dell'economia sostituendo quindi gli Stati Uniti d'America e Cina che era si prevedeva una espansione anche nei prossimi anni in quanto il progetto Via della Seta avrebbe portato sicuramente ulteriore sviluppo sia alla Cina che ai paesi aderenti a questo progetto progetto economico progetto economico che è stato pubblicamente avversato dagli Stati Uniti più volte in America Latina sono continuati disordini di tutti i tipi Cuba e Venezuela subiscono l'embargo da molti anni questo embargo che è stato interrotto da Obama ma è stato poi ripristinato da Trump il Venezuela ha subito numerosi tentativi di colpe di Stato e subisce dottora l'embargo la Bolivia ha subito ha avuto un colpo di Stato ad opera della destra filoamericana il Cile e l'Argentina sono teatro di scontri di piazzi di ripressione durissime dei regimi come lo stesso Nicaragua la Colombia è addirittura entrata a far parte della Nato e in Brasile i pentalfiani sono riusciti a desonerare Lula con accuse e processi farsa e a mettere il sovranista Bolsonaro al governo per quanto riguarda il Giappone c'è chi ipotizza che anche l'incidente di Fukushima lo tsunami non sia accidentale ma fosse in realtà un attentato ora di questo non ci sono io non ho trovato prove convincenti ma anche se l'ipotesi può essere anche può avere la sua verosimiglianza il fatto è che i governi giapponesi e cinesi sono in riavvicinamento da molto tempo e questa cosa questo virus contribuisce in qualche maniera ad allentare i rapporti peraltro il Giappone ha dato dei segni di avvicinamento anche all'Iran nemico storico degli Stati Uniti da molti anni per quanto riguarda l'Europa e l'Italia in Europa l'opposizione ai pentalfiani è costituita da Germania e Francia dico Germania e Francia ma in realtà è più corretto dire Merkel e Macron in quanto queste massonerie sono costituite da uomini quindi questa questa queste urloge quindi anche la stessa Autor Pentalfa è a tutti gli effetti un'associazione privata che persegue i propri interessi e scopi privati che non coincidono necessariamente con gli Stati e quindi tende ad appropriarsi quando può degli Stati e utilizzare il potere di questi Stati ai fini dei propri progetti quindi è più corretto parlare invece che di Germania e Francia di Merkel e Macron Germania e Francia sono stati che sono diciamo così il nucleo forte del politico economico dell'Europa sono stati oggetto praticamente solo loro di numerosissime attentate negli anni scorsi attentati terroristici e peraltro hanno reagito con il trattato di Aguisgrana un trattato che le lega in maniera ancora più più forte ne fa quasi una identica nazione con integrazione a livello politico economico ed anche militare ed è un patto filmato nel 2019 chiaramente e dichiaratamente contro i nazionalismi quindi questo è chiaramente una reazione al progetto della Thor Pentalf peraltro il progetto Pentalfiano ha avuto successo in Gran Bretagna con la Brexit Brexit che ora anche con la situazione creata dal coronavirus si riuscirà a esportare in altri paesi come l'Italia in Italia abbiamo avuto seppur per un periodo breve un movimento come la Lega al governo che è arrivato al governo tramite quello che io chiamo il golpe a stori potete trovare un mio post così intitolato il golpe a stori colpo di stato esoterico in tempo di elezioni l'ho trovato all'interno del sito www.civiltanuova.it il governo attuale è però diciamo così di tendenza europeista e quindi l'opposizione tratterà in tutte maniere di anche se sarà possibile per loro tramite rivolte caos sociale eccetera di sfruttare il virus per andare al potere e possibilmente uscire dall'Europa questo perché gli Stati Uniti non accettano questa diciamo così intraprendenza della Germania e della Francia anche perché questa intraprendenza va nella direzione di una alleanza integrazione con la Russia e con l'Asia progetto che è tipico della loggia che si chiama appunto Golden Eurasia cui sono affiliati non a caso la Merkel e Putin quindi gli Stati Uniti osteggiano l'Europa dominata da Germania e Francia che ha buoni rapporti con la Russia quindi in conclusione se c'è da ipotizzando che si tratti di un arma batteriologica cosa naturalmente non provata ma di cui a mio parere ci sono molti indizi nel caso appunto si tratti di un'arma batteriologica a mio parere i maggiori indiziati sono questa è questa orlogia ad Orpentalfa in base al principio del cui protest cioè a chi giova per cui per ogni per cercare il responsabile di ogni delitto va innanzitutto cercato il mandante bene questa puntata finisce qui un saluto a tutti assalamualaikum a tutti e ciao a tutti alla prossima puntata